Sala, se stai dalla parte a voi lo controlli non sequenze, vai! E qui, e qui in giro si scoppia! C'è stasera, ti dico, quello che vuoi dire che è sottato! Quello che vuoi dire che è sottato! Subito lo stia! E le mie qui non si è ripeto e ti viene dei conti! Almeno i conti! Sta a merda! Le vale i miei! Oh! C'è qui in giro, 5 minuti le dà! 5! Lui è venuto in giro! 5 minuti! Mi fa un altro abbraccio! 5 minuti qui! 29! Conte pure! Non lo so, non lo so, non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so, non lo so! Ti dico ancora dentro, ma è andata! Ti dico ancora dentro! Vedete i vostri! E le faccio dentro! Ma c'è la faccio!